salve ragazzi e benvenuti dal vostro sharp 79 siamo ancora qui per l'ultimo video per chiudere la serie di sd gundam capsule fighter online per pc siamo io e il mio amico max milian termidor ciao a tutti ragazzi sono un massimino termidor che devo dire e faremo i culi con il gundam wing e con lui unicorn ecco esatto esatto proprio quello che mi hai tolto le parole eccoci eccoci in the space mamma mia bellissima sta missione rega non l'ho mai fatta io è la prima volta che la facciamo così l'hanno fatta così no no io non mi ricordo max si probabilmente sarà anche l'età oregano gli stronzi lo stanno i pezzi di merda o sparano comunque gli stronzi sparano sparano a voglia lo stanno guarda il prossimo lo voglio ammazzare con la spada no gli stai a meno a te no volevo ammazzare io quello ci sono rimasto male io ho rubato la kill cazzo quanti sono a culo gli sparo ma non mandano più le palle morire va cazzo c'è il video col cannone no ce ne sono altri ok e troppi ce ne stanno belli sono pure tanti ragazzi belli più sono meglio è ok traspondiamoci in modo da wing li stupiamo tutti via ok oddio oddio che delurio addio stavo a fare la cacciata oddio che stanno a caricare ok vieni qua yeah ok spappolati oh subito oh bello nello spazio bellissimo così mazza i missili che partono a chi dobbiamo sparare a tutto ok perfetto a tutto pure i missili dai spacchiamo questi mazza voleva grosso dai ah fanno male ste troie non uscire da dalla zona puttana intanto mi prendo quella battleship no non quella dai dai che faccio fuori questa la faccio fuori dai che la faccio fuori dai mazza il puntamento da lontano fa proprio male e dai mazza quanto è tosta la cala oh tostissima ah ecco la leggera la vedo qua ok ok prima gli altri motori ok dammogli dietro scusate ok perfetto poi è messa proprio male eh mi spara proprio da dietro ne manca una dov'è? lo sta vieni su no ti perdi perdi tutto eh ecco arrivo 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 eh ma io ma sto sto troppi ne sono arrivati in modo quelli nemici però ce sto ancora questi oh finalmente si è trasformato l'unico oh 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 no la mossa alla battleship non ha funzionato per un cazzo non gli hai fatto la bippa vè? no proprio non ha funzionato sono proprio tardi oh sono tantissimi su sta missione bellissima e forse a una difficoltà piuttosto più difficile sarebbe stata anche meglio madonna quanti so gli arrivo di spada aspetta che distruggo a pezzi ok bravissimo perfetto e gli abbiamo fatto il culo pure questa volta perfetto ragazzi vi salutiamo qui con questo gioco questo è l'ultimo video chiudiamo la serie vi saluto un bacione al vostro sharp 79 e dal vostro Maximilian grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti